Il CAF CGL di Treviso c'è ed è pronto per assistere tutti i cittadini che hanno bisogno di un'assistenza di tipo fiscale in questo particolare momento di emergenza sanitaria. Molti sono i cittadini che si stanno rivolgendo alle nostre sedi chiamandoci allo 0422 4091 tasto 2 oppure inviandoci una mail. Ricordo che c'è un altro strumento molto utile che si chiama Digita CGL, è un cassetto fiscale dove comodamente da casa il cittadino può andare a depositare la documentazione di tipo fiscale e noi possiamo comunicare con lui attraverso questo strumento. Noi siamo qui per dare informazioni, per dare servizio per tutte le pratiche di tipo fiscale e confidiamo che questo periodo di emergenza sanitaria termini per tutti quanto prima. Ricordo che è opportuno stare a casa, il CAF è comunque a disposizione per espletare tutte le pratiche, stando tranquillamente a casa e rispettando quanto giustamente il DPCM prevede.